Ferragosto da tutto esaurito, presenza in miglioramento perfino rispetto ai dati del 2015, anno del recupero del mare italiano, forse ai livelli dell'ottimo risultato estivo del 2012. Sulle spiagge italiane insomma torna l'immancabile binomio Ferragosto-Ombrellone, a dirlo sono i balneatori della CNA, secondo un'indagine fatta dalla stessa Confederazione. Alla vigilia del 2015 gli stabilimenti di molte regioni sfiorano il sold out, 95% dei posti prenotati in Toscana. Un quadro positivo per la nostra regione, nonostante un percorso iniziato male perché maggio e giugno sono stati freddi e hanno inciso negativamente sul turismo. Lo afferma in una nota il presidente di Confesar Centri Toscana, Nico Gronchi. Al momento in tutta la Toscana gli elementi sono positivi, in particolare nella zona costiera, come abbiamo detto, ma anche le città d'arte sono piene di turisti. In termini percentuali, secondo l'associazione, la meta più desiderata è il mare, al primo posto con il 38%. Seguono i borghi storici scelti nel 25% dei casi, favoriti anche dalla vicinanza alla costa. Una cosa è certa, Firenze è da tutto esaurito, basta fare un giro in centro. A raccontare un ferragosto di pienone sono anche i cestini della spazzatura. Quadrifoglio conferma che lo svuotamento nel centro storico è passato dalle normali 8 volte al giorno a 12, più del 50%. Per Alessandro Tortelli, direttore scientifico del centro studi turistici, da due anni il turismo è in netta crescita a Firenze, anche in piena estate. La cartina torna sole, tutti gli alberghi aperti in un mese agosto in cui qualcuno chiudeva per ferie perché era ritenuta bassa stagione. Le presenze salgono dal 2014, conferma Francesco Becchi, presidente di Federalberghi Firenze. Arrivano anche da Cina, Corea, Arabia e India. Il turismo di massa inizia a muoversi anche verso le città d'arte in estate. Nel 2015 c'è stato l'effetto Expo, ci chiedevamo come sarebbe andata dopo. I numeri tengono. Perché questa corsa a Firenze? E per l'allerta terrorismo? Pare di sì. Molti esperti del settore sono certi che dagli europei, Italia e Firenze sono percepite come mete sicure. Ma è cambiato anche il modo di viaggiare, i turisti decidono all'ultimo, resta però un problema. Firenze si riempie, ma spesso non è un turismo qualificato e la spesa pro capite è bassa.